bene ragazzi da chiudono sono qua che si vede di pipette tornando un buonissimo video su melakoto insieme a tutta quanta la crew non tutta tutta ma quasi tutta c'è ron c'è dread e c'è just deluxe euron è il primo video di trackmania che fanno su melana esatto l'inizio dello svogo allora non so quanti di voi abbiano già visto il video di ron su questo trackmania ma praticamente l'obiettivo è in 5 minuti o qualcosa di più o di meno dipende cercare di migliorarsi e fare sempre lo stesso giro più volte fino a quando ti migliori il tempo e arrivi prima di ron fare il tempo migliore esatto perché mancano già mancano già 34 secondi alla fine di questa gara è finita è finita però sono arrivato al secondo dai no mi sono addobbato io ragazzi per l'istante questa gara ragazzi sono riuscito a pelo a vincere di questa prima gara così in un minutino dread mi batte di 0 10 non si sa vabbè io batto rega e lo andava a piedi fraccio sono lo video aia lo video c'è giusto rega quanto ho driftato male 27 25 sono sopra da fra sono sopra di fra è ma tanto arrivi primo ron lo sappiamo tutti no non è vero è che del 26 e 85 26 e 85 ricademi il pene urgido aia ma devo volare devo volare devo volare devo volare devo volare tipo così si questa mi piaciuta questa curva abbiamo anche brutto qua questo serbeta del cazzo perchè è la perda così larga rimbambi olè 25 63 come cazza fa fa così tanto per me fa di quelle curve un po particolari a caso con la tecnica tecniche soltanto lui capisce vediamo l'ultima curvetta qua merda come prima uguale l'ho fatto ma che senso ha ma cazzo ma quanto fai te delu io non lo so 27 faccio not bad eh sono molto veloce sono molto velocissimo sono velocissimo 24 80 dai com'ha fatto è finita game over 24 80 ha buggato ha buggato ciao ha fatto una roba assurda ha fatto 25 e 30 è finito il mondo è finito nooo l'ho fatto ancora più basso di prima non faremo mai nel mondo raga è impossibile si 24 e 47 si no no non è vero no non è vero no non può non può ragazzi primo non può cazzo non può ma guardate all'ultimo secondo sono sopra 24 e 33 primo 24 e 33 no non è vero no non è vero mi è vero mi è vero incredibile recupera dread mamma mia oh dread delu fa un rascione finale si vola wild ford 9 che non sento che va la macchina eh manco io no io non ho l'audio proprio perchè proprio una cosetta ecco fra vinto 27 e 21 27 e 33 26 e 93 marco 2 beh che cazzo di figli di puttana che siete oh me so schiantato andiamo 26 e 82 primo 26 e 81 non ci credo non ci credo un centesimo non ci credo che bastardo cane oh raga ho rotto la tastiera me so vola macchinina si macchinina 26 e 81 pure io 27 e 01 26 e 45 vabbè ha fatto 26 e 45 andiamo al mercato 26 e 45 andiamo al mercato andiamo al mercato andiamo al mercato andiamo al mercato ma che cazzo vuol dire ci offre di meno 26 e 64 no non ci credo io ho fatto 65 oh no si è cappottata la madre della cosa non ci credo 26 e 45 l'ho fatto uguale a prima raga perfettamente uguale non sai che vuol dire si chi è che ha lisciato la cosa no l'ho fatto apposta teoricamente perché voleva arrivare non si riesce a fare quella roba lì te lo smetti di cercare scorciato io per favore questa è perfetta questa è perfetta no 26 e 59 pro secondo cioè ma Ron è inarrivabile raga ma non so che cazzo di giro ho fatto raga è inarrivabile è sempre lì fisso come ho fatto a fare così basso buh non lo so neanche io raga l'ultimo tentativo l'ultimo tentativo è vero l'ultimo giro l'ultimo giro disponibile oh 26 e 76 fk non lo sbagliare venti secondi al termine mi sente la tensione e di me 57 ho migliorato ancora ma è di attenzione prese secondo raga guardate il contenci nooo ma tutti lì siamo in venticentesimi vabbè ma è assurdo raga ma il 27 ma in 20 ma in 20 mille Si parte, si vola, vediamo questa com'è Oh, non so dove devo andare Oddio Merda, oh, what the fuck Merda, oddio RON, perché? Ma infatti, come fa? Per fare le curve Ah, è vero, è vero, con lo spazio C'è il freno a mano Ma è freccetta indietro, uguale Che amadosca Wow, 22,99 Scendo sotto il numero dei 23 Che limite Non riesco più a finire il giro Io mi addobbo subito No, ho fatto una curva bruttissima Mi son capottato Qui sono questi, un momento di silenzio Di concentrazione pura Tutta la gocciolina di sudore Uscire dalla fronte di Frax Una cifra, Garkola No, non ce l'ho fatto Sto vedendo sgocciolare 23,44 No Get on my level, bitches No, merda Porco Di cosa, prego? Eh, 7,4 No, siamo dietro a dread Siamo dietro a dread Vediamo di recuperare Sono volato sui cazzo di cose I due frasi sono dietro i due secondi Cos'era quell'orgasmo? Cazzo, di 12 millesimi sono solo Cazzo di 12 millimetri 22,33 Merda, ultimi due tentativi Sì La prima volta che diamo Allora, vediamo al primo tentativo Che cazzo Oh, che spettacolo Oh, si vuole in alto Si sale, si sale, si sale Si scende, si scende, si scende Si curva Va, 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 va Sono uscito fuori dalla mappa Cioè Oddio Non finisce più 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 Ma sono due giri, che è? What the fuck? No, mi squilla il telefono Non posso rispondere Ma no, regà Solo questa non finisce Infinisce I giri sono a 1 a 1 Però non ti fa finire il traguardo Praticamente Ma vedi E tecnicamente No, ho sbattuto Non so cosa sto facendo C'è un record Che A me scusate Tutti quanti quelli che guardano il video Mi sta suonando il telefono Il loop in l'infinito E speglilo E non posso Sto girando No, no Gira pure Cioè Dai a spegnere Dai tranquillo Spero che attacchi presto Questo tizio Che sta chiamando Cosa sto facendo? Cosa sta facendo la mia macchina? Inseghe Merda Io sono andato a sbattere Che ho perso tipo troppo tempo E io pure No, non sbattere qua Testa di vitello Testa di vitello Sul serio? Sono incredibile Bella sta curva L'ho preso a 2.000 all'ora Sì che la pesa 2.000 all'ora Eh, come? Proprio Cos'è? Ma così? Ci sei rimasto male Infatti non ho fatto il record Avevo preso a 2.000 all'ora Raga Gastron, gastron Io ho resettato Raga ho perso 4 secondi Eh, normale No, oddio Ho fatto tutto perfetto Cazzo questa è la figa davvero Ho preso a veloce L'ho preso a veloce Questa è bella Questa è bella Questa è bella Si parte di curva Si parte di curva Vai Vai Sì Sì la basta ancora Ok 5.07 25.30 Merda 25.30 Merda Sì, un tempo nuovo Praticamente Sta solo sugli orologi nuovi Che si chiamano Spiriti E C'è questa nuova unità di misura Che si chiama Staffila Staffila La conosco la Staffila Eh, si Tipo Duffy Dax Tipo la Duffy Dax Sì, sì Sono sopra Dread M'hai visto? Sono bellissimo Maledetto Cosa? Prego Io no Come? Merda Sotto dal mio recordino Recordino Perché tutte le parole finiscono 25.27 Cazzo sei Flanders Ino, ino X A 2000 Allora Regà Oddio Sono atterrato Il traguardo Magari Del Proci 24.13 Ma cassa fatta Fa 24.13 Quello Ma mia Signori Ma mia Signori Clint La devi mette Questa Clint Questa La devi mettere Clint 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 24.37 Che palle Arriva a 12.000 Allora Qua regà Arriva a 12.000 Allora Calcola Arriva troppo 12.000 Allora Ti prego 24.63 Sotto Ancora Ma che cazzo No Non bianchiamo Non bianchiamo 24.67 Che palle Eh sì Ma baffa Vai ragà Che me Devanno a mangiare Il gelazio 24.12 Ma come Sì No Ho fatto 13 Non mi parte Non mi parte Non c'è 10 Ho fatto 13 Vabbè Non c'è 10 Vai 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 Plì Plì 24.10 No Devi morire Fuori adesso Sì Al culo Sì Forse sì Vediamo 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 No Sono sopra di 16.000 24.49 No 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 Ho risultato No A meno che non faccia 22 Non posso neanche più arrivare al traguardo Porca puttana No Due Uno No 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 Era almeno 23.80 Due Uno Mai già sono perderà ole 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 Che è stato Non mi la concentrazione si taglia con un gristino qua Una cifra No Merda Ho sbillato un attimino con la macchinetta 23.76 Sì però roncia al cazzetto in tutto questo Calcola qualcosa di minuscolo Dai Sbandando a testa e sinistra Arco diavolo È perfetta Sono sotto le 48 centesimi Sono sotto di 48 centesimi 23.52 Martacci tua Incredibile 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 I pokemon I pokemon 23.76 Cazzo Primo 23.34 23.23 Ma son figlio di puttana Ma lascia per i 4 secondi di gloria 4 E poi la cosa bella è che ogni volta che fra arrivo un secondo dopo arriva ron e bambino Sempre Ma solo con me Ogni gara è così Cioè ma perché Si delu si delu che ci prendo Si ti prendo volando No non ce l'ho fatto Come ho fatto a perdere i secondi lì Ma come cazzo ho fatto a perdere i secondi lì Pure io me lo sto chiedendo ron Ero fratto di 25.000 20.000 Eh Perché devo andare a sbattere contro un muretto Ultimo tentativo signori È vero anche per me Ultimo tentativo 23.36 No non è bastato Ma dovrò fratto 34 Sì Una soddisfazione almeno una Però c'è un ultimo tentativo C'è un ultimo tentativo I can do it Fighi e buttene Eh, più perché più 0,24? Non capisco Eh, più 0,26 anch'io 23,91, vaffan bagno 23,23, Giastron 23,34, WF Dread, 36 36, regà Mamma mia Beh, regà, comunque, spero che ci sia il video Sul Trackmania, serio Mi sia piaciuto Più che sto facendo questi video perché dato che Uscita poi Trackmania, oh è partita un'altra gara Uscita Trackmania per console Noi lo stiamo facendo anche su PC perché Sinceramente io mi ha consapevo che ci fosse per PC Comunque, arriviamo a 10.000 like e iscrivetevi al canale Di Delu, Ron e G-Frax Ci vediamo alla prossima brrrella Bella vaga Ciao